E' morto Giulio Andreotti, costituente parlamentare dal 48, sette volte presidente del Consiglio e 25 ministro, è stato il protagonista assoluto del potere democristiano nella Prima Repubblica. Senatore a vita, aveva 94 anni, il decesso nella tarda mattinata di oggi nella sua abitazione romana. Le esequie domani pomeriggio a Roma in forma privata, né funerali di Stato, né pomerardente, ma vediamo chi è stato Giulio Andreotti. Ricordare in pochi secondi chi è stato Andreotti è pretendere di immortalare in un unico fotogramma mezzo secolo di storia italiana. Statista e genio della politica per alcuni, vero capo della P2 per altri, ha manovrato gli esili fili della giovane democrazia italiana, fedele al suo motto più famoso, il potere logoro a chi non ce l'ha. Costituente parlamentare dal 48, sette volte presidente del Consiglio e 25 ministro. La strage di Capaci lo privò del Quirinale, poi manipulite la fine della DC, processi per mafia e quel bacio con Riina, dai quali uscì in parte assolto, in parte prescritto, vicende che mai offuscarono la sua ironia. Con la morte di Andreotti forse resteranno tali segreti inconfessabili. A pensare male degli altri, amava dire il divo Giulio, si fa peccato ma spesso si indovina. I processi Rubi e Mediaset restano a Milano, lo ha deciso la Cassazione, respingendo l'istanza di trasferimento a Brescia per legittimo sospetto avanzata dai legali di Silvio Berlusconi, imputato nei due procedimenti. Mercoledì, nuova udienza per il caso Mediaset, il 13 maggio, torna in aula il Rubigate. La disoccupazione aumenterà nel 2013 e nel 2014. Lo prevede l'Istat, che stima per l'anno è in corso un tasso dell'11,9%, più 1,2 rispetto al 2012, e del 12,3% nel 2014. La riduzione del PIL per le proiezioni dell'Istituto si attesterà quest'anno all'1,4% per tornare l'anno prossimo a una moderata crescita, più 0,7%. La tregua sui mercati internazionali è fragile. È il monito di Giuseppe Vegas, presidente della Consob, nel corso della sua relazione annuale a Palazzo Mezzanotte a Milano. Le prospettive dell'Eurozona rimangono deboli, ha detto il presidente dell'autorità di controllo della Borsa, mettendo in guardia da un'austerità senza speranza che può diventare il detonatore di una crisi generalizzata. Milano sarà capitale europea. L'intero paese sostiene l'Expo, grande priorità per questo governo. Lo ha sottolineato il premier Letta al termine di un incontro con i vertici delle società impegnate nell'organizzazione. Nominato commissario unico Giuseppe Sala, che avrà pieni poteri su lavori e cantieri, Letta ha promesso inflessibilità contro le infiltrazioni mafiose. Tre morti e 14 feriti, di cui alcuni gravi nell'incidente avvenuto ieri sera a Portici, in provincia di Napoli. Un balcone è crollato durante la festa patronale di San Ciro, nel comune vesuviano, proclamati tre giorni di lutto cittadino. Aperta un'inchiesta per accertare le cause della Shagura. 190 kg di cocaina purissima nascosti in un container carico di sacchi di caffè sono stati scoperti dalla polizia nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Il container, proveniente dall'America centrale e destinato alla Turchia, è stato sbarcato al porto di Gioia Tauro dalla nave mercantile Bellavia, battente bandiera delle isole Marshall. Se fosse stata immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato diversi milioni di euro. Preoccupazione dell'ONU per l'escalation di violenza in Siria all'indomani del raid di Israele contro depositi militari di Damasco. Nell'attacco uccise decine di guardie presidenziali, scrive il New York Times, citando l'esercito di Assad. La Turchia intanto ha dato il via a esercitazioni militari al confine. 22 morti e un centinaio di feriti e il tragico bilancio dei violenti scontri scoppiati a Dacca, capitale del Bangladesh, tra polizia e manifestanti islamici che sfilavano in corteo per chiedere una nuova legge contro la blasfemia. Gli appartenenti al gruppo radicale Hefashat Islam chiedono la pena di morte per chi offende la religione islamica, contrario il governo bengalese.